Eccoci qua con il video di ringraziamento, siamo noi il ringraziamento, sono loro, la cosa importantissima di questo video di ringraziamento è farvi vedere le facciazze delle persone che hanno montato i video e hanno messo a disposizione lo spazio, stai al centro dello spazio, perché io posso parlare, posso scrivere queste cose che voi spero abbiate comprato, chi lo sa, nel caso fatelo, e qualora l'avete già comprato, non so, compratene altre, regalateli, non lo so, comunque sono, a parte gli scherzi, volevo ringraziare appunto prima di tutto loro e poi volevo ringraziare te o voi, che voi siate, perché state sostenendo il gioco, spero lo stiate giocando e probabilmente lo state migliorando commentandolo sul server Discord di Fumble o in qualunque altro luogo dell'universo mondo. Io sono tanto, 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 tanto contento di questo, di questo viaggio di scoperta, perché è stato come Not The End esattamente un viaggio di scoperta, non è stato semplice, fare questa cosa è stata completamente nuova, loro me l'hanno resa molto godibile, quindi grazie. Grazie a te. Grazie a voi, grazie a tutta la community del gioco e grazie alla persona che ha appena... Questi festeggiano tutti col clacson, sabbiate che stanno festeggiando col clacson, esatto, pronti al lancio di Prisma, Prisma, Prisma o Prisma, esatto, Prisma o Prisma, se volete sapere perché lo chiamiamo Prisma invece che Prisma, dovete per forza venire sul server Discord di Fumble e chiedere, altrimenti, vabbè, rimarrà un segreto, è uno dei tanti segreti sporchi della distopia. Nulla, affrontate scelte paurose, fate scelte difficili, l'unica scelta non difficile è comprare Prisma, è una scelta facilissima, ci siamo tutti, ciao ragazzi, ciao, 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 ciao.